Bella vecchi trapani, siamo i Grananas e siamo qui con Omigol Chi sarà il... lo speciale 150k? Io lo speciale Io speciale, io fortissimo 150k e mi incontreremo tutti Quindi abbiamo scritto la tag Grananas Anzi dobbiamo... Tutte le ragazze prendete spunto da questa maglia Purtroppo non ho le casse su questa... Ciao Allora io mi metterò le cuffie e tradurrò a lui quello che diranno Perché non abbiamo le casse Sei chiaramente Surreal Surry? Direi più lui Mi dici chi Ah, lui ha chiesto se era lui o lui Surreal Eccolo a destra Sì Io non ci sto capendo un cazzo Ancora io Ciao Ciao Vabbè raga vi vogliamo augurare gli auguri per i vostri 150k Ora non so farlo Grazie mille E andiamo avanti Ciao Ciao Perché sei al contrario? Lei non ha l'audio quindi Ciao a posto Non ha l'audio? Non si sente niente? Ma perché state... Perché siete al contrario? Cioè Non sappiamo perché veniamo al contrario Ah forse... Hai provato che magari la webcam sta al contrario? Forse la webcam... Gira la webcam O forse è quella del computer Quindi... Stai facendo il video? Bravo Bravo Sì stiamo facendo il video Però non voglio risolvere sta cosa allora Mettete la webcam bene Ma la webcam è quella del portatile? No eh Non mi prego un cazzo della webcam al contrario ok? Lascia le perdite Ma mi sa che non ci sentono sai? Stanno bene al contrario Pa 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 Ci devono sentire per forza Almeno che non ci hanno... Sì vi sento Eh lo vedi? Ok Mettete la... Girate la webcam Ve prego fategli sto favore Se no non la finisce più Ok Hai visto che c'è il moto? Eh però non lo sa che è il pc Vabbè dai andiamo avanti Diamo a cercare pure l'altri No Guarda se tu metti il tuo qua vicino Guarda guarda Hai la paura oh? Vai Fiamo così Vai dj Ma sempre te Sempre te Non possiamo far così Ma fa un video Con l'interruttore dietro Sempre Sì sì Con il bottonone Tipo dalla pulsante Ah ma tanto lui non ci ha... Non si sente quindi Non dice niente Ah Gab ci ha fatto la foto al volo Sì ma lui però non ci sta a lui No 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 ci sta Quindi tu che non ci sei Ciao Cioè io devo tradurre Come vi ripeto Io devo tradurre a lui Quello che mi dicono Perché sento solo io E siccome è Tirchio Non si voleva manco fa un paio Dei cazzi di se stesso No non è che io mi faccio le cazzi Ma non ho più le cuffie E' quello il problema Quindi una cosa esclude l'altra No perché le cazzi Tirchio Le cuffie lo sai Vabbè è rotto il cazzo Cioè non ce la faccio più Vabbè salutaci Alessandro Mi raccomando Posso fare una foto? No salutaci Alessandro Non fa questo Non c'ha... Lei non si sente niente Porca puttana Mi sono scordato il portafoglio Homer Simpson Hai mai sentito rifatto io? Non ci credo Ah ecco là ce l'ha l'audio Ah ce l'ha l'audio Sì sì Ciao Yo Come va? Aspetta Ma adesso che vi ho visto Abbastanza bene Hai sentito? No Lui non sente quello che dì Purtrofo Ha detto adesso che vi ho visto abbastanza bene Grazie E' muta lei No questo è un porno Però è brutto vedere E' come quando guardi un porno senza audio E mamma mia quanto è brutto E' vero c'ha ragione E' vero c'è Però non si sente niente capito Vabbè visto che non possiamo comunicare E noi andiamo avanti Cati ti prego Cati Cati Sto scherzando vai Aspetta che c'ho i dolori Vai Aspetta 3 2 1 Vai Fatta Adonna che fitta E' Oh Zitto un po' lo sento Ma va male Stai a dì Sono molto belli i video di FIFA Grazie Gli altri no quindi Non so che vi gli ho detto Gli altri no 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 Tutti i video sono belli Però in particolare quelli di FIFA E quindi vecchi trapani Ci vediamo al prossimo video Se va bene Ciao Ciao E quindi vecchi trapani Ci vediamo al prossimo video Non ce la facciamo Non ce la facciamo Però è figa sta cosa Dobbiamo riprovarla Ciao Yo Però mi sentite Schi grande Schi grande Schi grande Schi grande Ok Hanno un sacco di fake Un sacco di fake Sì E quindi bella Ma ti trapani No Ma inizio pensavi che eri fake Sì perché c'era un altro Che faceva la stessa cosa Ah davvero No davvero Sì Ancora l'abbiamo Incontrato Comunque auguri per i 150.000 iscritti Grazie mille Grazie mille Grazie Adesso se incontriamo i fake Facciamo fake Versus fake Va bene Ma è difficile parlare Perché me li sento Due volte Quindi non riesco a finire E niente dai Momo Ci vediamo al prossimo Ci vediamo al prossimo Tanto se rivedete Ciao ancora complimenti Bella Bella Ciao E quindi ci vediamo al prossimo video Bella Bella No 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 Ci sale E quindi ci vediamo al prossimo video Bella Dai Più di una volta Le giuro non ce la faccio E quindi ci vediamo al prossimo video Bella Solo perché Solo perché Vi cerchiamo da un'ora Da un'ora Da un'ora Da un'ora Sì pensavamo che erano le 5 Poi abbiamo letto il post Ah ah si sono messi quando hanno letto il post Che cazzo ho detto che Pensavamo che era le 5 Pensavamo che era le 5 Sì sì ci siamo forti dopo L'avevo scritto Che sa fa quello da dire Non ho idea Stiamo cercando 3 ore di fare il fake Ma non ci riusciamo Cioè No Mi viene troppo da rire 40 minuti che ci siamo voi 40 minuti Quanto è il prossimo Anche loro so 40 minuti E lui non vi sente Quindi io ripeterò quello che voi dite Ah ok Ok Come state Bene bene Tu bene Fantastico Guarda Nomi Cosi città Tutte e due Tutte e due Ma che Stanno ripetendo pure loro C'hanno fatto Gaia Gaia Tutte e due Tutte e due Hanno ripetuto pure loro Vabbè Comunque Quindi Gaia Tutte e due Tutte e due Quindi tutte e due Gaia Sì E niente Ragazzi Andiamo avanti Ciao È stato un piacere Gaia Gaia Possono fare una foto Ragazzi Per me è no Per te sì Va bene Vai Potete fare una foto Grazie Ciao Gaia 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 Dai che c'è stava a credere Dai C'è tra l'ultimo Che Va bene Hai avuto paura Che eravamo fake Per un attimo Certo Devo dirgli metta la maglietta nostra Per unico il nostro Eh Che a te te conosco pure Beh zitto zitto Stavi dicendo Ripeti quello che hai detto Che non sentite Ha avuto paura che eravamo fake Ha avuto paura che eravamo fake Però lui ogni volta si va a fregare Non so Perché si mette a ridere Non ce la faccio a non ridere Visto Che palle Perché non ci riesco Vabbè Vabbè Non riesce a fare il fake Lui Ah lei Mima quello che fa Lei ci sente? Come lei ci sente? Lei ci sente? Lei signora La domanda per te Lei signora Voi ci sentite? Ho trovato Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Io perché ha detto L'ho trovati Guarda guarda che sto facendo Si va a Berlino Beppe Si va a Berlino Ma che cazzo Ce l'ha Oddio 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 Mamma mia Si Dai Aspetta 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 Sì Guardate I grananas I grananas Cazzo La roba mia Oddio Oddio I grananas No 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 Ma che cazzo Ma che cazzo Guarda che cazzo Guarda che cazzo La maglietta sua No 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 fermo fammi la maglietta No no fermo fammi la maglietta Si E' bellissima E' bellissima No quella nera No quella nera Oddio che spettacolo L'avevo vista L'avevo intravista Grande Grande Si stiamo a far video E ci sarai perchè la tua maglietta mi è piaciuta Grande Oggi ho poche a complanno mio Auguri Grazie Potevo fare una foto Vai Grazie No sta botta faccio così Fatta Ciao 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 Ma vaffanculo Ma azzetti Ma che cazzo Ma fermo 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 Ma che sto pezzo non mi è troppo Ma mi frega un cazzo Ma si è impanicato per l'ape Cioè non puoi capire No mi sono impanicato sia perchè ho visto lui E si è per l'ape Dici oddio lui Ma oddio no è brutto Oddio no oddio un'ape Ah eh c'ha ragione Ok ti ho mandato una cosa Questo pezzo lo metterò perchè hai ragione Su whatsapp Ah si stai a mandar codici e merda Coglione E quando vieni poi a fa quel video che abbiamo detto me lo dici eh Magari Ciao Però anni Dovrebbe essere quella la domanda Quindi T'avai un c***o dalla nascita eh T'avai un c***o Non gli dimostra quindici anni comunque Ne dimostri cinque No No ne dimostri di più Ne dimostri di più Oh porca la mignotta Non ci credo Cazzo tu di che stai svegliendo scusa C'è una sensazione Senti che casino che sta da faa Mamma Era un avuto 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 Oddio 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 fermare dicembre ottobre si lo so che non sei fake però ti fermi in dei punti che sembra che stai a fare il calendario ti è fermato così ti è fermato la foto la foto la foto la foto fai la foto non c'ha il batterio a scarica la foto batteria a scarica la foto batteria a scarica batteria a scarica la foto vabbè tu sei stato l'ultimo di che abbiamo trovato perché adesso chiudiamo il video yes la foto la foto la foto sei stato l'ultimo quindi saluto a tutti allora ragazzi questo video è finito ci siamo diventati parecchio sono certi che ci hanno fatto veramente ridere non siamo riusciti a fare un fake vero proprio no però ragazzi se vi è piaciuto questo amico ricordiamo che questo era lo speciale 150k e se vi è piaciuto lasciamo 15.000 like perché ci sta per questo amico con tutti quanti ci sarà un prossimo noi quindi di granas vi diciamo che è tutto ci perché al prossimo video cazzo dico mi sta facendo al prossimo video ciao